Il giorno dopo la convocazione del nuovo tavolo ministeriale sulla vertenza della Irisbus, verrebbe quasi da chiedersi come mai si sia arrivati ad aprile per un confronto che si sarebbe dovuto tenere nel mese di gennaio. La domanda sorge spontanea leggendo le decine di commenti di parlamentari, politici e sindacalisti che esprimono tutta la loro soddisfazione per la comunicazione firmata dal dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, Giampiero Castano. Tutti fanno intravedere, ben sapendo che non è così, come la convocazione sia arrivata grazie al loro impegno, alle pressioni nei confronti del Ministero e del Governo. Fin qui nulla di strano, è il gioco delle parti, ma è inevitabile un sorriso di fronte ad alcune dichiarazioni quasi farneticanti di chi si autocelebra per le insistenti pressioni nei confronti del Governo di Matteo Renzi, peraltro insediato ci sono nei giorni scorsi, dimenticando di sottolineare di non aver per nulla contribuito alla soluzione che verrà messa sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, ma anzi di essere stato tra coloro, pochi, che nei mesi scorsi avrebbe accettato volentieri ipotesi diverse che per il loro scarso peso specifico erano già state ampiamente rispedite al mittente. Ma il carro dei vincitori, anche se in questo caso la vittoria, pur se vicina e a portata di mano non è ancora arrivata, è sempre destinato a riempirsi immediatamente, soprattutto di tanti che per certi versi hanno pure remato contro. La vittoria nella vertenza della Irisbus, se tale dovesse essere perché è sempre giusto non mettere il carro davanti ai bui, è soprattutto dei lavoratori, di quegli operai che non hanno mai smesso la tuta e hanno parlato della Irisbus in ogni occasione e non certo di quegli inutili soloni che hanno sempre criticato e fatto polemiche, ma è anche del Vice Ministro Claudio De Vincenti che quando tutto sembrava perso si è intestato la partita e ha costruito una soluzione che tutti giudicavano folle, una chimera. È anche un po' la nostra che abbiamo sempre cercato di raccontare la verità e di rappresentare quello che realmente accadeva attorno allo stabilimento di Valle Ufita. Oggi, ma soprattutto tra qualche giorno, potremmo dirlo a gran voce, perché come spesso dice un amico sindacalista il tempo è galantuomo e stavolta è destinato ad esserlo davvero.